Ciao a tutti ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qui con il nostro Monza su PES 2021. Allora, oggi riparte la Champions, finalmente partita contro i Rangers. Diciamo che se oggi andiamo a vincere, possiamo seriamente ipotecare il passaggio del turno. In teoria, sempre se andiamo a vincere, perché non è mai scontato, anche se all'andata abbiamo vinto abbastanza facilmente, da quel che ricordo. Quindi speriamo bene, speriamo bene. Siamo fuori casa? Ho visto male, adesso non mi ricordo. No, siamo in casa, qui dovremmo essere anche avvantaggiati. Dai, dai dai, prendiamoci questi tre punti e andiamoci a prendere questa qualificazione alle fasi finali del torneo. Cioè, gli ottavi di finale di Champions, che sarebbe una buona partenza, ecco, per provare a vincere questo torneo. Per niente, per niente è facile. Anche perché è un torneo che in Italia manca da tanti anni, a meno che nel frattempo qualcuno l'abbia vinto in questi anni, ma non credo, non credo così ad occhio. Quindi è un trofeo che manca dal 2011, anzi 2010, l'ha vinto l'Inter nel 2010, è vero, è vero, non 2011. Quindi potremmo fare l'impresa storica di portare la Champions in Italia, sarebbe molto bello. Sarebbe molto bello. Dai! Pellegri, o l'hai visto? Lozek, prendi il tempo. Lozek, ahhh... Ho provato a far troppo. Ho provato a far troppo. Ho provato a far troppo. Già che ne avevo saltato uno era buono. Volevo saltarne due, visto che ero ben... Ero ben messo. Invece non sono riuscito comunque a portare a termine questo mio desiderio. Ma va bene così. Che ci devo fa? Che ci devo fa? Dai! Dai, i ranger sono molto chiusi, eh. Non sarà per niente semplice. Bellissimo! Bellissimo! Rubio! Oh, che palletta! No! Zè la... La manda sul palo. Zè la manda sul palo. Volevo passarla in mezzo, però avevo paura che... Non ci fosse nessuno a prendere palla. E quindi ho... Ho optato per l'opzione, diciamo, più... Così. Più facile. Ma non sono stato ricompensato. Magari se tiravo in mezzo, se la passavo, riuscivamo a far gol. Chi lo sa. Chi lo sa. Bravo Gustavo. Che tiene fisicamente. Bravissimo Gustavo. Pellecri. Fatti vedere. Bravo Rubio. Rubio. No. No. La presa. La presa. Staremo meritando, quantomeno, di passare in vantaggio. Quanto meno. Ma... La dea bendata non ci sta riservando grandi trattamenti quest'oggi. Speriamo di riuscire a... A sbloccarla il prima possibile. Perché sarebbe fondamentale vincere oggi. Sarebbe fondamentale per essere sicuri. Perché non voglio giocarmi tutto alle ultime partite, con l'affiato sul collo, con la paura. No eh. Direi che potremmo anche evitare di fare questa cosa. Quanto meno. Se è possibile... Se è possibile... Io eviterei. Se è possibile. È possibile? Bravo. Dai. Guardalo. Guardalo. Ma porca. Ma come ha fatto a sbagliare? Ma come ha fatto a sbagliare? Io sono senza parole. Non è possibile. Bravissimo. Oh, oh. E vabbè. A parte che l'avevo incrociata questa palla. Non so perché... L'ha sparata addosso al portiere. Ma questa è un'altra storia. Dai. Lozek. Vabbè però Wirz, cioè... Era perfetta questa palla. Era... Era messa con il contagiri. Guarda che bella. Bastava tirare centralmente. E forse sarebbe entrata. Cosa fanno? Niente. Il portiere oggi si sta superando. La palla non riesce a entrare. E io sono particolarmente disperato. Gustavo. No, vabbè. Ma cosa ha preso il portiere ancora? Ma cosa ha preso? Ma cosa ha preso? Ma cosa ha preso? Io non ci credo. Gustavo. Gustavo. Niente. Ancora Gustavo. Au. Hai rotto tre quarti di... Hai capito? Hai un po' rotto. Vabbè. Niente ragazzi. La palla non vuole entrare. E io non so cosa fare sinceramente parlando. Sono abbastanza... Come dire. Sto sprofondando moralmente parlando. Perché mi sento impotente quest'oggi. Mi sento impotente. Vabbè. Bravo Rubio. Ah. Bellinga. Ah, è fallo, no? Ah. Mi sembrava un po' fallo, eh. Sinceramente. Rubio è il migliore che abbiamo. Ci provo. Niente. Non riesco più a tirare in porta di posizione. Becco sempre la parte alta della barriera. Non so perché. Ho perso lucidità. Su queste situazioni qua. Prima segnavo sempre. Ora non segno più. Vabbè. Bravo Z. Ancora Z. Niente. Dai, dai, dai. Ah, era ottimo. Vabbè. Questa palla era pessima. Ma recupera. Pellegri. Ancora McGregor. Gran portiere questo McGregor, eh. Gran portiere. Le prende tutte. È una roba incredibile. Undici tiri a zero. Non riusciamo a passare in vantaggio. Non so cosa fare. Veramente non so cosa fare. Qua la situazione è grave. È gravosa. È vero che il fischio dell'arbitro ha interrotto il loro slagio. Aiuto. Qualcuno mi aiuti. Perché qui non si riesce proprio, eh. Vai Rubio. Bravo Rubio. Pietro. Eh, però. Vabbè. Spellingham. Vabbè. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo. Gustavo. Per lo Zec. Alta. Sta palla non entrerà mai. Non entrerà mai. Io ho già capito che sta palla non entrerà mai. È una roba. È una roba veramente. Senza senso. Senza senso. La sfortuna che stiamo avendo. È qualcosa di. Di incredibile oggi. Incredibile. Questi hanno più. Più culo che altro. Che questa sia la prima volta che provano ad attaccare. Dai. Rubio. Ma cos'è Rubio? Ma. Ma era. Era per Pelleti questa palla. Andiamo bene. Andiamo. Andiamo bene. Qui non è stato sufficientemente. Era. Era bruttissima. No niente. Non. Non si riesce a. No. Non si riesce proprio. Niente. Non si riesce. Bellingham. Bravissimo. Oh. Pietro. Vede Rubio. Oh. Finalmente. Finalmente. Segniamo questo. Questo gol maledetto. Con Rubio. Vabbè. Qui ha fatto tutto Pellegri. E Bellingham. Anche Lozek. Ha giocato. Questa palla in maniera perfetta. Pellegri però ha fatto l'assist. Della vita in mezzo a due. Quindi ottimo. Allora. Pellegri è stanco. Ibra. Tocca te. Rubio è stanco. Mettiamo. Mettiamo. Nessuno. Perché non c'è nessuno che può. Ma Bellingham. Non può farlo. Bene. Molto. Molto. Molto bene. Malcom per Wirth. E Chiga per Gustavo. No. Gustavo sta bene. Cosa cambio? No. Niente. Due cambi e basta. Due cambi e basta. La squadra sta molto in forma. Quindi. Inutile cambiare cose. Inutile. Oh. No eh. Non si ruva palla neanche a pregare. No ma. Ma che fallo è? Ma che fallo è? Su. Spalla contro spalla. Bravissimo Medina. Bravissimo. Oh. No. Kabak. Assolutamente. Dai. Rubio. In mezzo. A due. Non si riesce. Malcom vai. Eh. Vabbè. Pallaccia. Pallaccia di. Non mi ricordo chi. Di Rubio credo. Sì. Pallaccia di Rubio. No raga. Cos'è? Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Questi hanno più culo che anima. È incredibile. È incredibile. Ho provato a levarla. No. Invece Rubio. Rubio gliela passa. Perché Rubio? Perché gliela è passata? Gliela è passata Rubio. Non ci credo. Gliela è passata. Io non avevo fatto una roba del genere. Ha fatto tutto da solo questo. Vabbè. Io non ho parole. Non ho parole. Ma quali festeggiare? Che ha fatto qua mezz'ora fa. Qua. No. Lozek. 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 Che si è magnato. Che si è magnato. No vabbè. Non ci credo. Goal mangiato. Goal mangiato. Questi hanno fatto un tiro in porta. Un tiro in porta hanno fatto questi. Un tiro in porta. Questo fa capire tante cose di questa partita. Siamo nella fase finale del match. Seguiamo questo contropiede. Si fa largo con grande determinazione. Fa capire tante cose. Quando non puoi vincere è abbastanza palese. Vai Ibra. Vai Ibra. Ma per chi Ibra? Per chi? Per chi? Bellingham. Medina. Niente. Questo ci va di testa. Ci va. Quattro. Una saetta ci va di testa. Cerchiamo di non farli passare. Bravi. Oh però. da una parte o dall'altra. Non si stanno risparmiando sporsi. Malcom. Ibra. Come ha fatto a rubare palla questo? Offensiva. 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 Ho bisogno di portarla a casa. Questa partita. Ho un bisogno viscerale. Vai Malcom. Vai Malcom. No. Vabbè Ibra. Gol mangiato di Ibra. Gol mangiato. Gol mangiato. Non ci credo. Non ci credo. L'ha piazzata troppo. L'ha piazzata troppo. La palla. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. L'ha piazzata troppo. Non resta più molto tempo per cercare di segnare. Malcom. Malcom. Il portiere non esce. L'ha messa. L'ha messa. L'ha messa. L'ha messa. Pensavo che la palla andasse fuori dopo il palo. Ero sicuro a 100 per 100. Qui errore del portiere che non esce dai pali. Mamma mia Ibra. Ti stavi per mangiare un altro gol clamoroso. Clamoroso. 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1. Però ci siamo. La squadra c'è. La squadra c'è. 2 a 1 risicato tra l'altro. Mettiamo. Mettiamo. Equilibrata. Un attimo. Sennò qua. Siamo troppo sbilanciati. La squadra oggi ha giocato benissimo. Cioè un pareggio era veramente rubato. Ma rubatissimo. Oh. Già un 3 a 1 mi piace un po' di più. Già un 3 a 1 mi piace un po' di più. Doppietta di Ibra. E i Rangers a casa. A casa. Giusto così. Abbiamo dominato la partita. E stavamo rischiando di pareggiarla. Cioè sarebbe stato un furto. A mano armata. A mano armata. Un pareggio. Non si poteva. Non si poteva. Ok. 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 Molto. Molto bene. 18 tiri a 1. Questi hanno fatto un tiro a un gol. Incredibile. Incredibile. Il Tottenham pareggia. Attenzione. Noi andiamo a 13. A 6 punti dal Tottenham. Ragazzi. Siamo praticamente già qualificati. No. Basterebbe un pareggio. E ci potremo qualificare come primi del girone. Incredibile. Incredible. Sarebbe bellissimo. Sarebbe veramente bellissimo. Mai dire mai. Intanto andiamo a simularci le partite. 3-1 contro l'Ellas. Vabbè. Il Monza vola anche in campionato. A più 6. Da la seconda. Lo stiamo ammazzando questo campionato. E in Poli Monza. Vabbè. Vabbè. Ok. Fa piacere per lui. Mi interessa poco. Vabbè. Allenatore dell'anno. Luiz Enrique. E non avete visto... Beh. Non avete visto. 11 del mese. Gustavo. Rapporto mensile per l'Egri. Gustavo. Bellingham. Aumentano. Shabot sta crollando. Dispiace. Dispiace. Andiamo a mettere lo schema. No. Un attimo. Possiamo giocare con tutte le riserve? Con tutto il bene. Tipo non so. Malcom. Tipo non so. Ania. Chi ci posso mettere? Davi Silva. Bellingham va bene. Gustavo. Vabbè. Va bene anche Ciga. Sanchez qua va benissimo. Shabot. Medina. Eric. Schubert. Va bene dai. Squadra un po' di riserve. Tantanto contro l'Empoli. E infatti. 1-0 per il Monza. Sempre più 6. Suda Lazio. Che è seconda in classifica. Penso che ogni laziale vorrebbe vedere questa classifica. Sarebbe contento. Eric Garcia. Ci hanno fatto un'offerta da Newcastle. Eric è uno di quei giocatori che sinceramente... Però può servire. Però può servire. Il nuovo contratto. Prima che lo perdiamo a 0. Ok. Vediamo cosa ci dice. Il vecchio Eric. Monza Napoli. 1-0. Corto muso. Corto muso di questo Monza. Questo Monza ha preso molto da Massimiliano Allegri. Vince sempre 1-0. È incredibile. Allora. No. No. Ha rifiutato Eric di trattare. Ma porca. I tifosi hanno dato a Ibrahimovic in nominolo il fantasma. Poi. Oddio. Sinceramente Ibra si vede anche molto bene in campo. Direi no. Più che fantasma. Vabbè. Se... Se voi lo dite. Sarà così. Non lo so. Ok. Ma che non mi danno. Non hanno un senso logico. Manca Paga. Manca Paga. Come sta Sirigu? Eh. Sta abbastanza bene. Allora. Col Tottenham. Eh. Partita. Quanto meno. Importantissima. Perché se pareggiamo qua. O se vinciamo. Siamo qualificati come primi. E la prossima possiamo anche simularla. Che sarebbe una bellissima cosa. Bisogna vedere se. Se riusciamo. In questa. Impresa. Tottenham che è andata. Se non sbaglio. Abbiamo pareggiato. Non mi ricordo. Sì. Per forza. Per forza. Un pareggio l'abbiamo fatto. Penso proprio contro il Tottenham. Sì. Se non ricordo male. Bravo Z. Che intervento. Siamo fuori casa. Quindi. Insomma. Alla massima potenza. Un po' più tosta. La situazione. Rispetto a. All'andata. In cui eravamo in casa. Dai. Non è fallo. Non l'ha spinto no. Leggermente no. Bravo Kabak. Che. Che. Che scatto. Che stacco. Le odiesi. Che scatto. Buonanotte. 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 Oh. Ragazzi. Su. Non facciamo cavolate. Per questo secondo me. Sarà determinante. Nella partita di oggi. Bravo Pietro. Per insegnare. Il modo migliore. In cui potrà fare la differenza. Non sapevo dove andare. Ero braccato. Ero braccato. Da tre giocatori. Avversari. Palla intercettata. Ottimo il suo senso della posizione. Guarda come fanno finire entrambi i terzini. Ma cosa stavo cercando lì? Una palla dalla te. Mamma mia Kabak su Harry Kane. Cos'ha recuperato. Cos'ha recuperato. Manco lui sa come ha fatto. Ansu Fati. Bravissimo. No. How chic. Aveva concluso anche bene. Bravo Kabak. Comunque Kabak è cresciuto tantissimo in questi anni. Quanto è forte. Ma quanto è forte. Già era forte all'epoca. È migliorato ancora di più. Bravissimi dai. Ed è. Ed è. No. Pietro. 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 Bravo Pietro. Ansu Fati. Ansu Fati. No. Vabbè. Era un tiro straordinario di Ansu Fati. Un tiro straordinario di Repok. Pallone lungo in verticale. Dai. Ansu Fati. Come ha incrociato Ansu Fati. Ma come ha incrociato. Ma ne vogliamo parlare. Ammazza che. Che tiro. Che tiro. C'era la botta eh. Che dite. C'era? Sì dai. Abbastanza. Ha dato un'incrociata meravigliosa. Questo vantaggio causerà la risposta immediata degli avversari. Questo è sicuro. Che adesso per noi viene il bello. Ah. Era buona idea. Ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio. Ma non l'ha calibrato bene. E per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. No. Per poco Pietro non c'è arrivato. C'è la palla lunga. In avanti. Bravo Eric. Dagoban. Cerca il passaggio filtrante. Kane. Bravo Kabak. Sulla destra. Dai. Ha un chic. Tenta l'incursione. Ce la fa. No ma cos'è? Ha un chic. Manco la porta è beccato. Mamma mia. Manco la porta. Non è che ho chiesto tanto. A meno la porta. Vabbè. Bellissima azione però. Tiro da rivedere. Assolutamente. Non ha un F allo. Perché si è spostato. Si è spostato Silva. Si è spostato. Non so perché. Non so per come. Ma si è spostato. Dai. Bravissimi. Williams. No era per Ansufati. Ah Pietro. Lì ci sta bene la Rovega. Secondo me. La Rovega ci stava benissimo lì. Vabbè. Lascia andare che è nostra. Grazie. Bene così. Bene così. Teniamoci questo 1 a 0 al momento. Vorrei anche fare il 2 a 0. Per essere più sicuro. Ma questo sbaglia i passaggi. Zè. Ma che da se. Ti sei addormentato. Mamma mia. Che brutta roba. Ma cos'è. Ma cos'è. Bellissimo. Pietro. No vabbè. No vabbè. Ho scelto l'angolo sbagliato. Ho scelto l'angolo sbagliato. Mi sto complicando le cose. Mi sto complicando le cose. Purtroppo. Sto sbagliando tutto. Nelle scelte finali. Ah. Niente. Vabbè. Dai. 1 a 0. Primo tempo. È molto buono. Stiamo giocando bene. Niente da dire. La squadra c'è. Io sono abbastanza contento. Quindi va bene così dai. Va bene così. C'è un ottimo movimento senza palla. I passaggi sono precisi. Nessuno ha paura di tentare la parte nazionale. Bravo Pietro. Ma Pietro però. Dove vai? C'è. Silva. No. Ansu fa. Fermi tutti. Fermi tutti. Niente. Non si riesce comunque. Vabbè dai. Ci stiamo mangiando un sacco di occasioni oggettivamente parlando. Pietro. Pietro. Mamma mia Pietro fisicamente cosa stava tenendo. Non so nemmeno come abbia fatto ma ammazza. Impressionante Pietro. Cigarini. Ed era. No. No vabbè non ci credo. Cosa ha preso. Tra l'altro è bello vedere che abbiamo fatto i gol più difficili. Invece i gol più facili ce li siamo mangiati clamorosamente. È incredibile questa cosa. È veramente incredibile. Non ha senso tra l'altro. Però vabbè. Quando mai una cosa che faccio ha senso. Mai. Mai mai mai. Infatti. Potremmo essere tranquillamente 5 a 0. E invece io sto ancora giocando sul 1 a 0. Fantastico. Pietro. Ah ci prova. A girarsi ma. Ma non riesce. Però se gli veniva. Era da solo praticamente. Era da solo. Loro. I compagni devono ringraziarlo. Loro? Nostra? Di chi è sta palla? Loro. Ahimai loro. Non andiamoci in sette. Che basta uno. Vabbè. Lasciamo correre. No problem. Allora. Allora. Facciamo alcuni cambi anche noi. Assolutamente sì. Ibra. Gordon. Per Ansufati. Che ha giocato bene. Molto bene. Anzi. Ha fatto il gol della nostra vittoria momentanea. e Adrien Silva. Gran gol di Ansufati comunque. Grande gol. Grande gol. Grande gol. Bravo Ibra. Eder. Temporeggia. Temporeggiamo. Non vogliamo perdere il pallone. Ansufati. Vedete Williams. Eh. Era buono. Era buono. Era molto buono. L'ha visto molto bene. Bravo Chica. Eder. Ah. Non riesce a scappare. Eder. Rimasto lì un po' bloccato. Peccato perché. Bravo Zeo. Oh Chica. Oh Chica. Oh Chica. Ancora lui. Cos'è sta roba? Ancora un Chica. Adrien. Dai. Il Chica. Bravissimo il Chica. No. Perché lì? Ma era per Ibra la palla. Perché cavolo fa... Dai Chica. Cos'è? È preso un colpo lì dove non si può dire? Che meraviglia. Il Chica ormai perde i colpi, i pezzi del suo corpo in questa partita. Brutto intervento. Addirittura non lo sapevo che fosse un intervento così brutto. L'arbitro lo richiama in modo deciso. Infatti, infatti gli ha sparato. Gli ha sparato. Cosa è successo? Cosa vi urlate voi? Tifosi. Niente, non si riesce mica. Stiamo un po' soffrendo fisicamente. Siamo un po' stanchi, ho sbaglio. Siamo un po' arrivati. Eh, siamo un po' arrivati fisicamente. Siamo un po' arrivati. Dobbiamo cercare di tenere testa per altri... Almeno... No. Sì, 14 minuti. Si può fare, eh. Si può fare. Dai, che poi a noi anche il pareggio andrei bene. Però io no. Io voglio la vittoria. Voglio la vittoria. Bravo, Chic. Per Zè. Zè. Mamma mia. L'ha chiusa. L'ha chiusa. Siamo qualificati. Ufficialmente. Grazie anche a questo gol di Ederk. È stato... Meraviglioso. Assist di Zè. La traiettoria ha cadato il pallone era perfetta. E Zè non ha potuto fare niente. Più che altro l'inserimento di Ederk. Che è molto, molto bello. 2 a 0. Bravo Gordon. Per Ibra. Non è fallo. No, eh. Come ha fatto Gordon non arrivare su questa palla. Lo so solamente lui, lo sa. È velocissimo lui. Harry Kane. Niente. Mamma mia. Che giocatore. Ha fatto un gol meraviglioso. Oggettivamente. Niente da dire. Niente da dire. Bellissimo questo gol di... Di Harry Kane. Che ricorda che... Il Tottenham c'è ancora. Non è morto. Bravissime a rimettersi in corsa. Anche perché il Tottenham se perde sta partita... Eh. Non so. Come sta messo, eh. Potremmo veramente fargli rischiare grosso al Tottenham. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Qualche istante sarà tutto finito. Bravissimo, Ciga. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. No, vabbè. Era un assist perfetto. Poi Ibra non so cosa abbia fatto. Di solito lui tira dei... Dei grandi... Dei grandi tiri di potenza. Oggi ha tirato un... La prugna marcia. Non so per quale motivo. Non so per quale motivo. Oh. Vai Eder. Vai Eder. Sanchez è stanco. No, peccato. Se passava. Se passava. No, fuori gioco. Veramente? Ah. Mannaggia di quanto. Mannaggia di quanto. Di pochi centimetri. Oh, è finita. È finita. È finita. È finita. Oh. 2-1. Siamo passati. Ufficialmente. Come primi. Manco come secondi. Così. Primi. Primi. Con una partita di... Di vantaggio. Incredibile. Incredibile. Mai avrei sognato questa roba. Porto che supera il Tottenham. Eh. Però il Porto andrà contro di noi. La prossima. Quindi non è detto che lo facciamo vincere. Non è detto. Non è detto. Anche perché andremo a simulare. Sinceramente. Un posto in casa Tramzo Sport. Sì. Certo. Adesso. Sicuro che ci vengo. Guarda. Sicuro. Sicuro. E il Monza vince pure contro l'Atalanta. Ma quanto è forte questo Monza. Ma quanto è forte. Mamma mia. Gioca a un calcio spettacolare. Le vince tutte. E siamo già a dicembre. Io non vorrei dire ma siamo già a dicembre. Allora. Contro la Lazio. Scontro diretto. 1-0. Oh. Più 9. Più 9. Vabbè. Ormai è cosa fatta. Il campionato è una pratica formale. È una pratica formale. Direi che... Allora. Salta incontro. 1-0 Monza. Ancora più 9. Stiamo giocando benissimo. Magari facciamo il record di punti. Chi lo sa. Chi lo sa. Chi è? Vershairen. Premio del calciatore dell'Asia. Grande Vershairen. Monza è al ventunesimo posto. L'avevamo preso che è la tracentesima. Non mi ricordo. Una roba del genere. Comunque. Programma. Quando è che c'è la Champions? Perché? Bayer Monaco. Ah beh. È finito il turno. Ma non ce n'era un'altra? Ma allora il Porto è già passato. Il Porto è già passato. Il Tottenham fuori. Grazie alla sconfitta contro di noi. Abbiamo incontrato il Bayer Monaco che è primo nella classifica dei club. Mamma mia. Scontro Titanico. Scontro Titanico ragazzi. Monza-Barcellona. Cioè Barcellona sì. Buonanotte. Monza-Bayer Monaco. È abbastanza tosta. Sì. Devo dire che è abbastanza tosta. Un posto in casa Inter. Certo. Shanghai. Certo. Vengo allo Shanghai. Datemi un secondo che arrivo. Andiamo allo Shanghai. Allora salta incontro col Cagliari. Un a zero Monza. Sempre un a zero. Siamo già a 51 punti. Siamo già a 51 punti. Incredibile. Incredible. Rapporto mensile. Certo. Confermo sì. Continuo con il Monza. Ma stiamo scherzando. Ma ci mancherebbe che cambio squadra. Allora inizia il mercato ragazzi miei. Inizia il mercato. E dobbiamo parlare. Come migliorare la squadra. Sinceramente non ho grosse cose da fare. Schubert. Offerta. Rinnovo. Rinnovo. Ah beh. Alla fine hanno tutti accettato. Arriva in mercato e tutti accettano. Vabbè. Prima tutti fanno i fighetti. No ma no ma sì. Ora tutti hanno accettato. Hanno visto che questa squadra può arrivare lontano. Giustamente. E tutti si sono un po' riguardati. Ok. Rinnoviamo. A Schubert. A Eric. Ovviamente. Bene così. E su le mana. Io sinceramente non ho grandi cambiamenti da fare. La squadra la gioca bene. Sinceramente non ha. Non farei nessuno. Non venderei nessuno. Quanto meno. Poi fatemi sapere voi. Però. Di base. Stiamo messi molto bene. Molto bene. Primavera. Fabianschi. Florenzi. Sarebbe bello. Sarebbe bello. Masina. Leali. Tavanelli. Tronco. Il grande tronco. Magistrini. Ma che gente abbiamo? Scusate. Con tutto il bene. Ma chi sono questi che sono arrivati? Comunque ragazzi. Mi fermo qua. Gennaio. Fatemi sapere alcuni suggerimenti. Se volete. Per il calcio mercato. Fermo. Restando che io. Rimarrei così. Al momento. La squadra la gira bene. Quindi cambiare. Anche no. Intanto siamo a più 12. In campionato. Più 12. E niente ragazzi. Per oggi è tutto. Io vi ricordo i link. In descrizione. Per supportare il canale. E ci becchiamo. Al prossimo video. Ciao ragazzi.